L'Umana Reier è campione d'Italia, Jeff Vigiano ci fa una sorpresa proprio perché è campione d'Italia. Sì, sono molto contento per la nostra squadra, per la nostra toposi, per la città di Venezia, per tutte queste grandi sensazioni per me. Dopo nove anni in Italia finalmente abbiamo la Coppa. Insomma, Jeff Vigiano che parla in italiano è una bella sorpresa. Sono i miracoli dello Scudetto, che sensazioni hai provato a vincere questa partita? Sì, non lo so, sono ancora cercando per la parola, per questa sensazione, ma sono molto contento adesso.